Assicurare l'unità della nazione, l'efficacia dell'azione pubblica attraverso la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie. Questo uno dei passaggi del messaggio del Capo dello Stato ai prefetti alla vigilia della festa della Repubblica, come ci spiega Rita Cavallo. Uniti nelle diversità, secondo i valori della Costituzione, con lo sguardo al bene comune. È questa la democrazia che compie 73 anni, è questo il volto della nostra Repubblica. Alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente Mattarella parla ad un'Italia attraversata da tensioni, dall'incertezza economica che toglie a molti giovani la speranza di un futuro, dalle paure che possono spingere al rifiuto delle regole e sfociare nella violenza. In un messaggio ai prefetti, primo gradino dell'amministrazione pubblica sul territorio, Mattarella ricorda cosa significa servire lo Stato e servire i cittadini. Parla al Paese e alla politica, cui raccomanda una leale collaborazione fra Stato e autonomie, fra tutti i livelli di governo, secondo quel principio di solidarietà che anima la nostra Carta Costituzionale. Perché nessuno resti escluso e tutti i cittadini siano uguali. Diritti, libertà, democrazia, uguaglianza e doveri, inclusione, rispetto dei limiti posti anche alle autorità nel segno del primato della legalità. La funzione dei prefetti è preziosa, ascoltare la voce dei territori, combattere la corruzione e le mafie che aggrediscono anche il tessuto produttivo, garantire accanto alle forze di polizia la sicurezza dei cittadini, dare risposte al bisogno di sicurezza sociale, Stato e volontariato insieme, perché giorno dopo giorno cresca la fiducia di tutti nella nostra democrazia.